Pronti? Prontissimi. Siamo qui, Uggento, pista Salentina, pista Salentina, vediamo un po' tutti gli amici, le bike numerate, il mio numero 1220, 1259, straci i dati, i brindisi, ecco qua, fate un saluto ragazzi. Buongiorno, 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 mi sei affatto con il cartellino, salutate ragazzi, siete in video, siete in video, ciao Stefano, ciao Stefano, buongiorno, buongiorno, grande Raff, forza Raff, forza Raff, un altro mesetto no? No, 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 anche meno, siamo pronti, ora andiamo dal grande mitico presidente dell'istracità di Mario Spagnolo, magica avventura, a chi non l'ha fatte mai le gare dovete incominciare dalla Marathon al Salento, è una delle più belle gare che esiste, poi il resto viene da sotto, il resto va da sé. Grazie, volevo, aspetta, ringraziare l'amico Stefano, Friends Bike, che è prestando di venire con noi, e ci stiamo divertendo tantissimo, ne faremo tante, siamo arrivati, siamo incominciati a fare la prima gara in tre, io, Marco Galluccio, Francesco Berlingerio, siamo arrivati a 18, ho che dire, siamo ancora pochi, salutiamo Rucco. No, no, aspetta, la chiusura la devi fare tu, chiudi, 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 chiudi questo primo intervento, salutando tutti gli amici di Brindisi, noi portiamo alto il valore della nostra città anche fuori, la mountain bike ce l'abbiamo nel cuore. Eccoci, al completo, siamo tutti qua, ti manca? Ciao a tutti, ciao ragazzi, siamo emozionatissimi, Marathon del Salento è un'emozione, un'emozione, tutta da vivere. Stefano c'è il telefono, deve fare le foto. Sì, sia bene. Sì, sia bene. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qua, siamo qua in compagnia di Confama e Stefano, alla grande, alla grande, spaccheremo oggi. Spaccheremo tutto oggi ragazzi, spaccheremo tutto. Spaccheremo tutto oggi ragazzi, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Spaccheremo tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Sulla pista Salentina, un cartotero internazionale di Ugento, si scaldano i muscoli, si scaldano i muscoli ragazzi Cercheremo di partire più sventi Siamo in griglia, non si griglia, siamo in griglia di partenza, ancora è presto per grigliare, salutiamo tutti i grigliatori d'Europa Prende il via, a proposito di donne, buongiorno! E ancora donne, buongiorno, facciamo l'inizio! Sì, non è l'inizio, non è l'inizio, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio, non è l'inizio! Sì, non è l'inizio! Here's to the future For the dreams of you I want it all I want it all I want it all I want it now I want it all I want it all I want it all I want it now I'm a man with a one-track line So much to do in one lifetime So you hear me never come Allora, grand bella Grand bella esperienza Percorso magnifico Molta salita Si continua, si continua Siamo a metà Siamo a metà Siamo a metà VAL nós Grazie a tutti 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 Eccola qua La medaglia tanto Tanto aspettata Quest'anno E' arrivata E' arrivata la medaglia Siamo stati molto spericolati Molto 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 spericolati E' arrivata la coppa della pasta Ora qui c'è ciccio che si rifocizza con una banana pulisci di qua La coppa della pasta La coppa della pasta La coppa della pasta Ed è la prima Faccio vedere le bici La mia bike La mia bike Era pulitissima E' arrivata la mia Buonanima E' arrivata la mia E' arrivata la mia Grazie a tutti Grazie a tutti